Il 29 e 30 settembre si terranno a Roma le finali delle Olimpiadi della lingua inglese, alle quali quest'anno hanno partecipato 67.560 studenti tra i 6 e i 19 anni e provenienti da 54 paesi del mondo. Nel frattempo, i giorni scorsi, IESLA ha ospitato le finali europee, evento che si ripete in città dalla prima edizione del 2012. Il prestigioso evento internazionale si propone di promuovere la lingua inglese migliorando la cooperazione tra gli insegnanti e sfidando gli studenti di tutto il mondo a competere nella conoscenza della lingua. Quello che facciamo qui è qualificare per le finali i primi perdenti dell'Olimpiade della lingua inglese. In questa fase abbiamo studenti che arrivano da ogni paese europeo, Lituania, Armenia, Azerbaijan. Abbiamo anche un ucraino che è riuscito a venire. Abbiamo dato un contributo finanziario per questo ragazzo perché ci tenevamo tantissimo che fosse qui. La prova in cosa consiste? La prova consiste nella verifica delle quattro competenze linguistiche, così come il Common European Framework ci insegna. Rilasciate anche una certificazione di lingua? Rilasciamo una certificazione di lingua valevole in tutto il territorio europeo di un ente certificatore britannico che è il nostro sponsor, che si chiama Gatehouse Award. Parlando di sponsor abbiamo un'università americana che ha i vincitori della Hippo 5 e 4, che sono i ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Offre anche uno stage all'Università del Missouri nella prossima estate. e abbiamo un nuovo sponsor che è un college britannico che ha 12 sedi in Gran Bretagna dove di solito i nostri studenti d'estate vanno a fare la vacanza studio classica di due o tre settimane. Quali sono i paesi che parlano meglio l'inglese? Allora, qui siamo in un contesto europeo in questi giorni. Statisticamente i più bravi sono i croati. A livello mondiale, pakistani e malesi. Però gli italiani non sfigurano? No, direi di no. Anche in questa edizione abbiamo un veneziano. Io ricordo che dovrebbe arrivare dal Foscarini di Venezia. Abbiamo dei piemontesi, abbiamo dei lombardi, abbiamo dei campani e abbiamo un abruzzese. A sottolineare anche i buoni propositi dell'evento, un fantastico sottotitolo. Sì, English Without Borders. Noi quando abbiamo iniziato questa esperienza abbiamo subito pensato alla multiculturalità e ci siamo riusciti. Perché abbiamo gente dall'Oriente, abbiamo arabi, abbiamo gente di etnie e di religioni diverse. E in quelle regioni del mondo dove i problemi sono maggiori a livello economico, noi annualmente, senza mai farne pubblicità, aiutiamo i ragazzi che arrivano da paesini sperduti della Bosnia o dell'Armenia. E li facciamo arrivare fin qui. Quindi, insomma, l'equità sociale è qualcosa che ci sta a cuore incredibilmente. Grazie.